Arsenico, cadmio, cobalto, piombo, rame, zinco, pirite, questi rifiuti industriali trovati tra il cumulo che da dieci anni intasa Vianelli a Bolognano, appena fuori dal sito di interesse nazionale delle discariche tra piano d'orta e bussi sul Tirino. Siccome seppur per pochi metri Vianelli non rientra nel SIN, la rimozione non sarà pagata da Edison, giudicata in Cassazione responsabile del disastro ambientale. La regione ha stanziato 100.000 euro con cui sono state rimosse 155 delle 285 tonnellate di rifiuti tossici e ora si cercano fondi ministeriali per continuare la rimozione. I valori sono talmente alti da raggiungere criticità sia per quello che riguarda la tossicità dei materiali, l'ecotossicità e anche il rischio cancerogeno. Quindi adesso dobbiamo intanto finire a togliere quel cumulo, mettere in sicurezza eventualmente la strada e poi spingerci col ministero a cui sono stati già trasmessi i dati raccolti per avere i finanziamenti necessari all'estensione del sito SIN a tutta l'area che abbiamo visto essere interessata dai rifiuti contaminati. Intanto la preoccupazione è che le sostanze lì sepolte possano spostarsi nel sottosuolo contaminando anche altre zone. Quel cumulo di rifiuti fu abbandonato lì probabilmente tra il 2012 e il 2014 e da allora la strada interrotta. All'epoca gli accertamenti delle forze dell'ordine non furono in grado di determinare gli autori dell'illecito. Il sindaco di Bolognano però non si arrende e promette di attivare ogni azione utile a individuare i responsabili. Sarà sicuramente adesso scatteranno dell'indagine da parte della provincia provinciale per capire se la parte sottostante a quei cumuli che stavano sopra quella strada pubblica sono o tanto meno riconducibili alle stesse scorie inquinate che stanno all'interno del sito già oggetto di bonifica. Quindi si sta allargando a macchia d'olio la problematica dell'inquinamento sul sito ex Montecatino di Piano d'Orta, andiamo ad interessare altri pezzi di territorio e nello stesso momento tenete presente che incomincio a preoccuparmi e che incomincia a diventare anche un problema sociale per i residenti che sono anni e anni e anni che oltre a vedersi depreciate le loro proprietà residenziali e quant'altro si vedono sottoposte anche ad un'azione sanitaria. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!